Lo storico cerchio Ifior, l'essere ottimisti o l'essere pessimisti o l'essere realistici, da che cosa dipende? Commento. Come spiega lo storico cerchio Ifior in Le chiavi del paradiso, tutte queste condizioni dipendono dall'io. Infatti l'essere, nel momento in cui è presente nel piano fisico, possiede comunque un io. È difficile crederlo per la mente, ma anche il realismo è una posizione tipica dell'io, in quanto tutta l'osservazione della cosiddetta realtà è condizionata dai bisogni del proprio io. Essere veramente realistici significa andare oltre i desideri, oltre le sensazioni e le emozioni e persino oltre i pensieri.